Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Per chi non mi conosce, io sono DebiArts e oggi iniziamo una nuova challenge. Per chi non conosce questa challenge, la spiego subito. Ogni maggio gli artisti ricreano una sirena per giorno. Dal primo maggio fino al 31 maggio ci sarà una sirena diversa, a tematica diversa, appunto per ogni singolo giorno. Quindi questa è una vera e propria sfida. Io so già che non farò tutti i giorni, perché? Perché è un sacco di lavoro da fare ragazzi, però farò quelle che magari mi piacciono un pochettino di più. Spero che non mi odierete per questo, però appunto farò i giorni che mi rappresentano di più o magari quelli che riuscirò a fare. Sono un pochettino indietro, però sono riuscita a fare anche il giorno 2 e stasera farò il giorno 3, quindi li carico tutti insieme. State tranquilli, cercherò di stare al passo. Comunque, spero che vi piaccia. Non dimenticatevi di seguirmi su Instagram e su TikTok, dove stiamo aumentando un sacco, soprattutto su TikTok. Vi ringrazio un sacco per questo. Lasciatemi un pollice in su e un commento per supportarmi e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.